Ministro, considerata la sua presenza, presumo che il mal di pancia le sia passato. Intanto però a soffrire sono centinaia di migliaia di imprenditori e cittadini che avete tradito. State polverizzando un'eredità del più 11% di PIL nel bienio 21-22. E citiamo alcuni dati. Nomisma certifica che il superbonus a fronte di 88 miliardi investiti ha prodotto un valore economico di oltre 200 miliardi. Un risparmio medio in bolletta di 1.000 euro per ogni abitazione, un totale di 30 miliardi risparmiati dalle famiglie. Inoltre ha generato un milione di posti di lavoro e rilanciato l'edilizia in Italia. Ricordo che prima del nostro intervento in questo settore eravamo fanalino di coda in Europa. La stessa Europa che solo pochi giorni fa ha attestato che il vostro scellerato stop ai bonus edilizi ha causato una riduzione della crescita del PIL. Insomma, un disastro. E allora, Ministro, di fronte a tutto questo io chiedo, noi chiediamo, cosa intendete fare sulla proroga dei bonus edilizi, sulla riattivazione della cessione dei crediti, sulla proroga al 2024 del superbonus 110%. È una risposta che aspettano centinaia di migliaia di imprenditori e cittadini italiani. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, signor Presidente, onore dei colleghi. In primo luogo, in relazione alle premesse formulate dagli interroganti, in merito all'impatto macroeconomico positivo della generazione degli esami, occorre precisare che se anche diverse istituzioni, associazioni e centri di ricerca hanno rilevato il carattere espansivo del superbonus e delle altre misure di incentivazione edilizia, gli stessi studi hanno sottolineato come le valutazioni di impatto di tali misure siano soggette a un ampio margine di incertezza. Ciò è confermato dalla significativa variabilità dei risultati prodotti. Inoltre, non si può tralasciare che il contributo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento. Come ogni politica pubblica, essa deve essere, cioè, sottoposta a una rigorosa analisi costi-benefici. Come specificato tra gli altri da Banca d'Italia, l'effetto espansivo, verosimilmente, non è stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche. A questo, bisogna aggiungere che i maggiori investimenti per abitazioni hanno, nella migliore dell'ipotesi, sostituito e nella peggiore spiazzato, alcune delle spese che si sarebbero comunque realizzate anche in assenza del superbonus tramite l'aumento dei prezzi nel settore. In sintesi, se da una parte la stima dell'impatto macroeconomico del superbonus 110% è incerta, dall'altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa e dovrà darsene conto anche nella prossima nota di aggiornamento al DEF. Valga un dato per tutti. Misure pagate da tutti gli italiani hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistente, prime e seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e di poveri e anche sei castelli. Con riferimento invece ai quesiti posti dagli interroganti, proprio per questo motivo non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute. Come rilevate dagli stessi, il mercato di acquisto dei crediti è ripartito grazie anche all'impegno del Governo e alla certificazione della natura di tali crediti. E proprio per questo sono lo studio dell'Esecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontà di quelli ancora in possesso dei cittadini e imprese e sorti nel periodo antecedente l'introduzione dei vincoli di appropriatezza. Tale circostanza dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli frapposti alla loro cessione. Grazie Ministro. A facoltà di rieplicare il Deputato Santillo. Prego. Grazie Presidente. Ministro, la sua risposta non ci soddisfa per niente. Lei sta continuando in una narrazione tossica. Queste sono menzogne a solo scopo di cercare di coprire quanto farete con questa manovra lacrime e sangue, che sarà nel segno dell'austerità. Le parole di elogio per il superbonus arrivavano dall'Europa, arrivavano dalla sua stessa maggioranza, arrivava da Forza Italia, primo partito di maggioranza a difendere il superbonus, arrivavano dalla sua lega, dalla lega del segretario Salvini, arrivavano dal Presidente Meloni, che in campagna elettorale testualmente diceva di tutelare i diritti del superbonus e migliorare l'agevolazione ediliziae. Noi quelle parole non le dimentichiamo, Ministro. Ah, mi scusi, Ministro, ma non era lei che era al Mise quando il Presidente Draghi è andato in Europa a portare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destinava la maggior parte dei finanziamenti proprio al superbonus. Era lei o no? A noi si sembra che fosse lei che fosse lì. E dei benefici del superbonus ne hanno citato tutti, Istat, Eurostat, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Banca d'Italia, Censi, Snomisma, Fondazione Commercialisti. Uno studio di Fondazione Commercialisti, tra l'altro ciclato dal suo consigliere personale Enrico Zanetti, ci ha spiegato una cosa semplice. Il superbonus aumenta il PIL più di quanto aumenti il debito. Morale della favola, il rapporto tra debito e PIL è diminuito di 13 punti dal 2020 al 2022, liberando capacità fiscale che questo Governo, con la sua sciagurata politica, ha di fatto dilapidato. Ministro, il 12 luglio di quest'anno sono venuto a trovarla con il Presidente Conte e con gli esodati. Lei ha promesso di intervenire con urgenza, con un dispositivo che finalmente sbloccasse i crediti incagliati. Oggi Ance ci dice che 320.000 famiglie sono sull'orlo del precipizio a causa dei crediti incagliati, a causa dei vostri mancati interventi. Ecco, Ministro, la prossima volta che hai mal di pancia, pensi a quelle 320.000 famiglie. Grazie. Grazie.